E' qui con noi per parlarci intanto di quella che è ormai la storia di questo format e poi di una fusione importante che arriva con Rai Pubblicità e crea Casa Festival un grande volano di sviluppo artistico e culturale non soltanto di questa zona ma dell'Italia tutta Sì, storia, 13 anni di storia che nascono da questa location importante che è il Palafiori un momento di occasione di allegria in più, di festa, di condivisione di un festival che oltre ad essere dedicato ai milioni di persone che sono a casa può essere dedicato anche alle decine di migliaia di persone che sono a Sanremo che vengono qui ogni anno e vogliono vedere, toccare, vivere gli artisti la gente si muove da tutta Italia perché vuole vedere quella emozione e quindi il red carpet e il palco di Piazza Colombo vogliono essere una estensione di questa opportunità